Un'automobilista, Giuseppe Russo, lo stiamo vedendo, ha 74 anni, residente a Gorizia, è morto invece carbonizzato nella sua auto a seguito di un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la strada regionale nei pressi del centro abitato di Farra di Sonzo. L'uomo conduceva una Fiat Punto che stava immettendosi sulla strada principale quando si è scontrata con una Fiat Stilo condotta da un quarantenne del luogo. A seguito dell'impatto l'auto è andata a fuoco e l'uomo non è riuscito ad uscire dal veicolo morendo carbonizzato. Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Gradisca di Sonzo intervenuti sul posto dopo ore di lavoro sono riusciti a risalire l'identità della vittima. Il conducente della Fiat Stilo è stato elitrasportato a Udine ma non sarebbe in pericolo di vita.